Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi vi presento la Evil ROM, basata su Android 4.1.2, firmware LSS e kernel Apollo Jelly Bean versione 4.5. La ROM quindi è basata su un firmware Jelly Bean della Samsung, ma la grafica è completamente diversa da quella della TouchWiz classica e come potete notare già dalle impostazioni è ispirata all'Android puro di Google. Un po' come per la ROM Chameleon che ho anche recensito. Dialer telefonico, icone di sistema, barra di stato e menu a tendina sono quindi totalmente diversi da quelli che siamo abituati a vedere sull'S2. Ma le impostazioni, benché con un aspetto diverso, sono quelle di Samsung con qualche aggiunta. Infatti sono stati implementati per quanto riguarda lo schermo, la possibilità di abilitare il multi-window, l'effetto CRT, ovvero l'animazione di spegnimento del display, la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria, il Battery Status Bar Configuration, in cui possiamo scegliere lo stile che preferiamo, e il Toggles Configuration, che ci permetterà di scegliere e riordinare gli strumenti del menu a tendina. Altre impostazioni sono state aggiunte alla voce schermata di blocco e ora avremo la possibilità di impostare la lock screen delle AOSP e abilitare la torcia. Ok, quando andremo a flashare la ROM partirà la ROM Installer, che per inciso è in spagnolo così come la recovery modificata che si installerà. Tuttavia non preoccupatevi perché, come avete visto, il resto è in italiano. La ROM Installer ci permetterà di scegliere tra tre diversi tipi di ROM, quindi quella Stock con app più personalizzate e meno personalizzate, due temi Stock e AOSP Blue, cinque versioni del kernel Apollo, due modem, ovvero MS2 e LS8, e, infine, ci consentirà di cambiare i DPI. Il mio consiglio è quello di mettere la ROM Stock con il tema AOSP Blue, Apollo Light, il modem MS2 e lasciare le dimensioni invariate. Per quanto riguarda le applicazioni di sistema, come vedete alcune hanno un aspetto differente, con colori più tendenti al blu come nelle ROM AOSP. Inoltre le applicazioni sono quelle classiche con l'aggiunta di Clockwork Mode Manager per agire sulla recovery e l'app di YouTube, quindi da questo punto di vista non c'è grande personalizzazione. Andiamo quindi a vedere la fotocamera. Camera che ha uno stile particolare in quanto, come vedete, è a metà tra quello Samsung e quello AOSP. Sono presenti diversi effetti e modalità di scatto e quindi proviamo a effettuare una foto. Come vedete, gli scatti sono abbastanza veloci e non danno problemi. Vediamo il risultato e anche la qualità delle immagini non è niente male. Vi mostro quindi il multi-window per poi passare alle considerazioni finali. Finestra multipla perfettamente funzionante e compatibile con tutte le nostre applicazioni e quindi proviamo per esempio ad aprire App del giorno e l'archivio. Come vedete, potremo utilizzare tutte e due tranquillamente, ridimensionare lo spazio dedicato a una piuttosto che all'altra, scambiarle di posto o metterne una a schermo intero. Ok, considerazioni finali. Con questa ROM io mi sono trovato decisamente bene, sia dal punto di vista della gestione energetica sia dal punto di vista della fluidità. Per quanto riguarda la prima è a livello delle migliori ROM a OSP in quanto con 3 ore e mezza di schermo è un uso abbastanza intenso, quindi con Wi-Fi sempre attivo, social network, musica, giochi, chiamate, messaggi eccetera, sono arrivato intorno alle 11-12 ore. Anche per quanto riguarda la fluidità è veramente ottima in quanto non ho mai notato un impuntamento, le pagine scorrono e si caricano abbastanza velocemente e quindi mi sento di dire che è una delle migliori Samsung Based che io abbia testato e vi consiglio di provarla. Perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace, condividerlo e far conoscere il canale. I link li trovate tutti in descrizione e insieme a quelli della ROM troverete anche quello per scaricare l'applicazione Android Mod. Quindi mi raccomando provatela e recensitela sul Play Store. Per qualsiasi dubbio o richiesta ci sono i commenti qui sotto oppure le pagine Facebook e Twitter e quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!